mister secondo me che vuole questa giornale che verona ha visto ballato no bene è pesantito però con un buon atteggiamento a parte di tutti di voler fare delle cose nonostante la fatica nonostante la stanchezza sono contento mi dispiace solo dell'infortunio di Antonio Caracci Verona pesantito Verona stanco ma vedendo i gol è un Verona che ha prodotto azione digni di nota quello che è il momento io ripeto sono contento perché veniamo da carichi importanti oggi comunque nonostante questo abbiamo voluto abbiamo provato a giocare sempre anche in velocità e voler andare a gridire sempre e questo sono fortemente un momento e sarà un'arma importante per tutta la nostra gente un'altra settimana da vivere qui a Primiero è un Verona che non la vivrà purtroppo un abbraccio forte da parte tutta la squadra ma il contatto è continuo con Matteo da parte dei compagni da parte sottoscritto e sono convinto che si riprenderà quanto prima e si riprenderà più forte di prima esatto nel primo giunto mister per Artò, Thomas Artò è arrivato qui a Verona un ottimo rinforzo per la tua difesa giocatore di esperienza, di qualità nel reparto voglio caricarlo troppo nel minutaggio però alla fine ci siamo trovati solo con un centrale però insomma siamo contenti del suo arrivo manca solo l'ufficialità, prima corsa oggi per Feliccioli un altro giovane su cui il Verona del giro deve scommettere in maniera molto forte Sì, fortemente voluto dalla società, giocatore che era conteso da diverse squadre squadre di Serie A, un giovane che può darci il giusto contributo sul quale bisogna lavorare ovviamente La coperta però in fase difensiva rimane corta? Beh, a livello numerico, è chiaro, in settimana dovrebbe arrivare a Ferrari chiaramente già andiamo a, però anche in questo modo siamo corti spero che la situazione di Caraccio non sia nulla di grave sia una cosa di poco punto Intanto però gli abbonati continuano oltre 3.000 abbonamenti già rinnovati insomma l'amore per Lelas non conosce i limiti Beh, contenti, soddisfatti ma noi dobbiamo, come dire, durante la stagione renderli felici con delle ottime prestazioni e alimentare questo entusiasmo settimana dopo settimana perché anche una partita così di amichevole diciamo in questo periodo c'era tutta questa affluenza quindi l'amore del nostro pubblico è riconosciuto Prossima settimana, appunto, l'ultima di ritiro si chiuderà con l'amichevole contro i Trapani ho visto prima parlare con il presidente Setti il direttore sportivo Fusco gli ha chiesto qualcosa in particolare? Facciamo le valutazioni ormai, insomma, i programmi, le idee sono molto chiare gli obiettivi sono altrettanto chiari quindi andiamo avanti e facciamo le valutazioni sulla Rozza, sul nostro giocatore Salutato Luca Siligardi si parla anche di Luppi che potremmo andare a Foggia oppure per te Davide è meglio che rimanga a Verona? Per me Luppi è un giocatore di Verona alleno i miei giocatori alleno quelli che ho a disposizione li alleno poi come Luca fino a ieri l'ho allenato in serata è andato via questo è il mercato no, questo è il mercato così per il momento Luppi è un nostro giocatore lo alleno e sono contento di come si sta allenando Cassano ha regalato buone giocate e Cerci invece accusa fare un problemino al ginocchio nessun problema hai parlato con qualcuno? no, l'ho visto camminare non mi sembrava una postura molto buona sarà una sua postura è un solessio ma con tutti i nuovi voglio essere molto cauto quindi l'inserimento deve essere graduale perché vengono da un periodo di inattività perché bisogna fare molta attenzione ma sono contentissimo perché nonostante i carichi di lavoro anche oggi hanno provato a fare quelle poche cose sulle quali abbiamo lavorato in questi pochissimi giorni a Sì